In nomine Patris et Filii e Spiritus Santi, Amen. Laudetur Iesus Christus, Semper Laudetur, Maria Sede Sapientiae, Ora Pronobis. Continua la lettura dell'Imitazione di Cristo, Libro I, Capo XX, dell'amore della solitudine e del silenzio. Cerca d'avere il tempo conveniente per attendere a te stesso e pensa spesso ai benefici di Dio. Lascia le curiosità. Leggi materie tali che non ti affatichino ma ti compungano. Se ti sottrarrai da discorsi superflui, dall'ozioso andare e venire, dall'ascoltare le novità e le voci che corrono, troverai tempo bastante ed acconcio alle buone meditazioni. I più grandi santi schivavano quanto potevano il consorzio degli uomini e preferivano vivere nascostamente per Dio. Disse taluno, quante volte fui tra gli uomini, altrettante ne tornai meno uomo. Questo è ciò che proviamo spesso, quando parliamo lungamente. E' più facile tacere affatto che non eccedere nelle parole. E' più facile star ritirato in casa che potersi governare a dovere fuori di casa. Quegli, pertanto, che desidera aggiungere le cose interiori e spirituali, deve con Gesù allontanarsi dalla moltitudine. Nessuno si mostra con sicurezza, se non colui che volentieri sta ritirato. Nessuno parla con sicurezza, se non colui che volentieri si tace. Nessuno con sicurezza presiede, se non colui che sta volentieri soggetto. Nessuno con sicurezza comanda, se non colui che bene imparò ad obbedire. Nessuno gode veramente, se non ha in se stesso il testimonio d'una buona coscienza. Però la sicurezza dei santi fu sempre piena del timore di Dio. Né perché avessero maggior copia di virtù e di grazia, furono meno vigilanti e meno umili interiormente. La sicurezza dei malvagi, invece, nasce da orgoglio e da presunzione, e finisce per volgersi in inganno di loro stessi. Non riprometterti mai, sicurezza. Nella vita presente, benché tu sembri buon cenobita e devoto solitario. Spesso coloro che sono più stimati dagli uomini corsero maggiori pericoli per la troppa loro fiducia. Quindi per molti è cosa più utile che non siano interamente privi di tentazioni, ma che siano spesso assaliti, affinché non si tengano troppo sicuri, onde per avventura non si levino in superbia, onde ancora non si pieghino troppo liberamente dalle consolazioni esteriori. O come conserverebbe buona coscienza che non cercasse mai gioie passeggere, chi mai non si occupasse col mondo. O quanta pace e quiete possederebbe colui che troncasse ogni vana sollecitudine, che solo pensasse a cose salutari e divine, ed in Dio stabilisse interamente la sua fiducia. Nessuno è degno della consolazione celeste se non si è prima esercitato con diligenza nella santa compunzione. Se vuoi essere compunto nel fondo del cuore, entra nella tua cameretta ed escludine i tumulti del mondo, siccome sta scritto compungetevi nella quiete delle vostre celle. Troverai nella cella ciò che fuori perderai di frequente. La cella continuata diventa dolce, mal custodita genera noia. Se tu l'avrai ben coltivata e custodita al principio della tua conversione, ti sarà di poi amica, diletta e gratissimo conforto. Nel silenzio e nella quiete l'anima devota progredisce ed impara gli arcani delle scritture. Quivi e la trova fiumi di lacrime con cui lavarsi e purificarsi. Ogni notte, affinché tanto più diventi familiare al suo creatore, quanto più si tiene lontana da ogni tumulto del secolo. A chi pertanto si ritrae dai conoscenti e dagli amici, si avvicinerà il Dio con gli angeli santi. È meglio star ritirati ed attendere a sé che trascurando se stesso far miracoli. È cosa lodevole per l'uomo religioso uscir di rado al di fuori, schivare ed essere veduto, non voler vedere gli uomini. Perché vuoi tu vedere ciò che non ti è permesso d'avere, passa il mondo e la sua concupiscenza. I desideri della sensualità ci trascinano a dissiparci, ma passato quel momento che cosa ne ricavi fuorché gravezza di coscienza e dispersione di cuore? Una lieta uscita genera spesso un mesto ritorno ed un'allegra serata prepara un triste mattino. Così ogni gaudio carnale facilmente si insinua, ma infine morde ed uccide. Che puoi tu vedere altrove, che qui tu non vegga? Ecco il cielo e la terra e tutti gli elementi, poiché con essi sono fatte tutte le cose. Qualcosa puoi tu vedere dove che sia, la quale possa lungamente durare sotto il sole? Forse credi saziartene, ma non potrai giungere a tanto. Se tu vedessi tutte le cose ad un tempo, che sarebbe questo, se non una vana visione? Leva gli occhi a Dio nei cieli e prega per i tuoi peccati e per le tue negligenze. Lascia ai vani le vanità. Tu attendi a ciò che t'ha ordinato il Dio. Chiudi dietro te la tua porta e chiama a te Gesù il tuo diletto. Rimani in cella con Lui, poiché non troverai altrove pace, sì grande. Se non ne fossi uscito e nulla tu avessi ascoltato degli esterni rumori, assai meglio sareste rimasto nella vera pace. Ma poiché ti piace di quando in quando udir cose nuove, conviene che tu soffra il turbamento del cuore che ne deriva. Laudetur Iesus Christus Semper laudetur In nomine Patris et Filii e Spiritus Santi Amen